La giornata sta andando alla conclusione, abbiamo partecipato ai campionati europei per i juniores individuali a squadre e le squadre femminili. Finiamo con la prima medaglia nella giornata di venerdì con il terzo posto di Andrea Moretti, puntiamo ad aumentare il bottino sabato e domenica dove abbiamo le squadre maschili e abbiamo gli individuali sia maschili che femminili. La nostra speranza è di chiudere con almeno 3-4 medaglie, come Presidente della Federazione a me interessa soprattutto che facciamo una buona figura come immagine che diamo all'Italia, poi ovviamente siamo qua, cerchiamo anche di portare a casa qualche medaglia, vediamo domani come va a finire.